ciao a tutti siamo ricky e teo ndc allora 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 è uscita finalmente la canzone delle blackpink con selena ice cream non vediamo l'ora di fare la reaction il video sicuro sarà una figata la canzone pure non vediamo l'ora e se non siete ancora iscritti al nostro canale subscribe iscrivetevi se volete seguirci su instagram teo yon se bored richard e se volete vedere le altre reaction che abbiamo fatto sulle blackpink le trovate qui e iniziamo subito con la reaction ragazzi questa collaborazione non avrei mai pensata eccole giso e elisa tutte bellissime selena rose e jen adoro non sei reale gli outfit il set no vabbè che figata no ragazzi il video ma dove sono selena sembra un cartone animato ragazzi no io sto facendo video anche c'è più che altro dove sono sembra tipo animal crossing che figata io non bellissima selena bellissima ci sono tantissimi cambi io amo il video ti voglio vivere in questo video ma non sa quanto il video wow selena adoro lì no vabbè no vabbè top adoro hashtag commenti adoro no assurdo assurdo cioè no io gli do un 9 e mezzo ma più che altro la canzone la devo ancora riascoltare bene ma più che altro il video no il video io sono rimasto scioccato bellissimo 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 cioè davvero non so cosa dire su questo video letteralmente selena a parte bellissima ma la sua voce con le blackpink fatela entrare quinto membro selena gomez nuovo membro delle blackpink loro forse i video dove sono più belle loro gli outfit il set un cartone animato la canzone col video calza perfettamente voglio andare a vivere lì se mi date l'indirizzo io prendo faccio le varigie e domani mi trasferisco se vi state chiedendo che voto dopo questo video non esiste è un numero che non è ancora stato inventato vabbè comunque il video finisce qui fateci sapere cosa ne pensate se volete iscrivervi al nostro canale subscribe iscrivetevi lasciate like se volete seguirci su instagram teo yon sei bori ed richard ci vediamo con un prossimo video ciao a tutti 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 ciao a tutti